Musica Bene ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Lunedì 16 maggio prossimo partirà in Veneto lo screening gratuito per l'epatite C rivolto a tutte le persone nate tra il 69 e l'89. Questo screening rappresenta un'opportunità per la diagnosi precoce di una malattia che spesso può rimanere silenziosa per anni. Se non curata questa patologia può provocare seri danni al fegato tra cui il tumore e la cirrosi epatica. Evidenzia la regione in una nota in cui ricorda che da alcuni anni sono disponibili dei farmaci orali che permettono di curarla in modo semplice, efficace e con pochi effetti collaterali. Lo screening sarà avviato in tutte le aziende dell'ULS della regione, nelle aziende ospedaliere di Padova e Verona e presso l'Istituto Oncologico Veneto. I cittadini nati tra il 1969 e l'89 potranno partecipare gratuitamente. Rimaniamo in ambito medico e vediamo l'odierno bollettino Covid in regione. In Veneto sono stati registrati 3.932 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore che portano in totale a 1.716.332. Il bollettino regionale segnala 19 vittime con un totale di decessi che arriva dunque a 14.563. Scende il numero attuale dei pazienti positivi che sono 53.295, 1.670 in meno di ieri. Negli ospedali tuttavia crescono invece i ricoveri in area medica che sono più 20 rispetto a ieri, arrivando a 808 e calano di poco di due unità, quelli in terapia intensiva che sono attualmente 41. La campagna vaccinale segnala 762 dosi somministrate, come al solito, in prevalenza terze dosi. Cronaca, c'è gas che arriva da tutto il mondo, tranne che dalla Russia, sulle nave metaniere che attaccano ogni settimana al terminale gasiero di Adriatica LNG, 15 km a largo della costa Veneta a Porto Viro, in provincia di Rovigo. E' il rigassificatore più grande dei tre esistenti in Italia, gli altri sono alla Spezia e Livorno, il primo al mondo realizzato offshore. Diventerà il nostro caposaldo quando il governo d'intesa con i partner dell'Unione Europea deciderà di chiudere definitivamente il rubinetto al gas di Mosca. La struttura in cemento armato, lunga 180 metri, largo 88 e alta 47, entrata in funzione nel 2009 è l'unico impianto italiano a poter accettare le metaniere cosiddette superlarge, con capacità fino a 217 mila metri cubi liquidi di gas. Ancora cronaca, incidente tra un furgone e un'auto, feriti due conducenti. Lo scontro si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la strada provinciale 46 in via Vicenza ad Isola Vicentina. La conducente della Toyota Yaris è rimasta ferita e bloccata dentro l'auto, è stata estratta e portata in salvo dai vigili del fuoco. La donna, una volta portata fuori dalla macchina, è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM. Ferito anche l'autista del furgone Cassonato. I due feriti sono stati trasferiti con due ambulanze in ospedale a Vicenza. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora vigili del fuoco all'opera. Per una strana esplosione verificatasi presso i forni crematori, rimaniamo sempre a Vicenza. Il servizio. Una piccola esplosione si è verificata all'interno dell'impianto di aspirazione dei fumi del forno crematorio al cimitero di Vicenza. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Gli operatori della struttura hanno messo in sicurezza l'impianto. I vigili del fuoco, codiuvati da un funzionario di guardia e capo servizio, hanno eseguito insieme ai tecnici dell'impianto tutte le operazioni per ripristinare i livelli di sicurezza del forno. Un operaio di 50 anni è morto all'ospedale di Vicenza dopo essere stato folgorato da un cavo dell'alta tensione delle acciaierie Beltrame. L'incidente è avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri. Colpito dalla scarica, l'uomo è andato in arresto cardiaco. Soccorso dapprima con il defibrillatore è trasportato d'urgenza nel reparto di rianimazione, però purtroppo è deceduto poco dopo. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio, dipendente di una ditta esterna alle acciaierie, stava manovrando nel piazzale esterno dello stabilimento Unagru, il cui braccio avrebbe accidentalmente toccato questo cavo di alta tensione. A soccorrerlo dopo la scarica alcuni colleghi che hanno poi subito chiesto aiuto alla centrale operativa. Cambiamo argomento, oltre ai danni procurati dalla tristemente famosa tempesta Vaia, gli alberi nel nostro territorio devono difendersi da un nuovo insidioso nemico. Vediamo il prossimo servizio. Dopo le devastazioni causate dalla Xylella portata dalla mosca, arriva l'invasione del Bostrico Tipografico. L'insetto killer del legno, che ha già colpito 14 milioni di alberi, emette a rischio il bosco italiano, soprattutto nella fascia alpina. È l'allarme lanciato da Coldiretti e Federforesti in occasione della prima giornata internazionale della saluta delle piante. La rapida avanzata del parassita killer, che infetta gli abeti indeboliti dagli effetti di cambiamenti climatici, rappresenta una vera e propria pandemia delle piante, che al contrario di quello che succede con il Covid, prende forza man mano che si alzano le temperature e l'insetto mangiatronchi esce allo scoperto. L'invasione si è scatenata a causa della presenza di una grande quantità di legname, ancora a terra nelle zone più impervie colpite dalla tempesta, vaia. Occorre tutelare il patrimonio boschivo veneto, molto diversificato dal punto di vista delle specie arboree, e gran parte di esso rientra nella rete Natura 2000, che ha per obiettivo la conservazione della biodiversità. A Padova il prefetto ha presentato una piattaforma informatica per la richiesta del contributo di sostentamento per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Il contributo offrirà un primo sostegno economico nel nostro Paese ed è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e non usufruisce di forme di accoglienza a carica dello Stato italiano. Sul territorio padovano al momento sono presenti 2700 circa profughi, di cui 410 accolti nei CAS gestiti dalla Prefettura e 78 nel LUB regionale di Monselice. I minori non accompagnati sono 153. In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato prossimo le sedi delle Gallerie d'Italia di Milano e Vicenza saranno aperte in maniera straordinaria fino a mezzanotte con itinerari notturni e laboratori per famiglie. A Vicenza, in occasione della Notte dei Musei, viene proposto sul tetto dell'Olimpo un itinerario notturno alle 22 alle 23, dall'Ade al Monte degli Idei per scoprire le figure mitologiche che vegliano sul palazzo. È stato inoltre organizzato un laboratorio per famiglie su tutti gli indizi in un vaso per risolvere un mistero che avvolge la collezione di ceramiche antiche andando a caccia di dettagli per scoprire tutte le verità nascoste all'interno di un vaso. Non solo sabato, ma anche domenica le Gallerie d'Italia parteciperanno all'ottava edizione di Kit Pass Day a Vicenza, dalle ore 10 alle ore 15 e 30, miti fra le pagine, una passeggiata fra le sale del palazzo alla scoperta delle armonie dell'Olimpo. Anche quest'anno, 2022, nove spiagge venete sono state riconfermate con l'ambito bollino blu. Vediamo di chi si tratta. Sono state riconfermate le nove bandiere blu per le spiagge del litorale veneto assegnate dalla FE nel 2022. Sul litorale veneziano ci sono San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Iesolo, Cavallino, Treporti, Venezia e Chioggia. Le spiagge rodigine vedono invece Rosolina Mare e Porto Tolle. Il programma internazionale Bandiere Blu assegna il suo riconoscimento di qualità ambientale alle località le cui acque siano risultate eccellenti negli ultimi quattro anni in base alle analisi eseguite dall'ARPA. Ma le acque pulite sono solo il primo passo per aggiudicarsi il vessillo. Sono ben 32 i criteri di valutazione del programma aggiornati periodicamente che bisogna soddisfare. Pratiche ed educazione per preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile hanno avuto anche quest'anno un'attenzione speciale. Il famoso cortile di Giulietta invaso dai turisti ne abbiamo parlato anche gli anni scorsi e si pensa in questo momento a un esproprio. Basta Ressa per fare i famosi selfie. Nel corso degli anni i coproprietari del cortile sono tutti commercianti hanno sempre rifiutato ogni soluzione che era stata avanzata dal comune e dal sovrintendente alle belle arti. Il cortile di Giulietta ogni giorno viene invaso da turisti e il sovrintendente archeologia, paesaggio e belle arti di Verona ha suggerito l'esproprio. Sono due anni che il sovrintendente parla con il comune di Verona della questione e ora si sta pensando all'atto amministrativo che riguarderebbe il cortile e una parte della palazzina a sinistra dell'ingresso che renderebbe il comune l'unico proprietario dell'area. Un'azione che permetterebbe di rendere a tutti gli effetti tutta la zona un museo a cielo aperto. Chiudiamo come sempre dando un'occhiata al meteo. L'anticiclone subtropicale africano continuerà a portare temperatura sopra la media specie nelle ore diurne ma da venerdì sera sarà meno esteso verso le nostre latitudini e si potranno così verificare delle piogge specie sui monti per effetto di contrasti con aria di origine atlantica. Cielo oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso sui rilievi o zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso. Le temperature rispetto a ieri sulla pianura non avranno variazioni di rilievo. Sui monti saranno in leggero aumento con valori sopra la media soprattutto nelle ore pomeridiane. È tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione. Come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. Grazie per la visione!